Ragazzi, benvenuti su Castiubedrums, ci troviamo qua oggi per aprire questo pacco qua che mi è appena arrivato da Adagio Italia. Dadan! Che cos'è questo? Questo è il simbolo di Mapex Black Panther. Eccolo qua, ve lo faccio vedere bene anche da questa camera qua, un po' più scura ma vabbè. Allora, voglio andare a aprire questo pacco qua, che cosa c'è dentro? Lo sapete, l'avete visto dal titolo. C'è un rullantozzo Black Panther, che i Black Panther li ho già portati sul canale, ma questo è diverso. Allora, taglia niente questo taglierino alla fine, devo cambiarlo. Ma questo è diverso perché teoricamente dovrebbe essere ancora più potente degli altri. Quindi, allora. Mo, vi spiego tutto. Adesso lo apriamo, lo scartiamo, facciamo tutte cose. Scatola, dentro c'è ovviamente una scatola. Di sicuro i Black Panther non si romperanno quando ve li manderanno a casa, perché sono inscatolati da paura. Cioè, veramente mondiale, bravi. Brava Mapex, bravi tutti. Uh, un vellutino, bello. Comunque, marchiato tutto Mapex, ovviamente. Mamma mia, guardate che bello, raga. Eccolo, qui. Black Panther Atomize. Che già, diciamo che il nome, la dice un po' sul suono, Atomize. Quindi, guardate qua, che bello che è. Veramente molto, molto, molto carino questo rullante. 14x6,5, tutto in alluminio, 2 mm di spessore. L'alluminio, come pelli, ha, uh, Ambassador X molto figo sopra, diremo, e Ambassador Snareside sotto, sempre, diremo, tutto marchiato Mapex. Ammazza, ha dei cerchi che sono potentissimi. Questo rullante da gas pacca, sicuro. Cioè, potenza e controllo mondiali. Ve lo dico già, anche senza provarlo, perché si vede. Ma, adesso andiamo a provarlo. Quindi, mando la sigla e andiamo a montare il tutto alla batteria. Andiamo, andiamo. Ed eccolo qua, montato il nostro Mapex Black Panther Atomize. Subito, voglio dirvi una cosa importantissima, che mi sono accolto adesso. Cioè, che ha due cordiere. Una da questa parte, una dalla parte opposta. E questo, già, lo rende un rullante di fascia mondiale. Perché io ho usato spesso rullanti con doppia ghiera, diciamo, da poter tendere sia da una parte sia dall'altra. Ed è un fattore veramente importantissimo, perché riesce a tender la cordiera in modo molto più omogeneo sul rullante. Non solo da una parte sola. Quindi, la tendi di qua, la tendi di là e lei si alza tutta insieme. Oltre a questo, tre fori di uscita dell'aria in modo tale che il suono sia molto più secco. Infatti, il suono è bello secco. Mi è arrivato così. Lo suono come l'ho messo. Sicuramente il suono è veramente molto potente, molto secco, degno del nome del rullante. Il suono è tanto, sia come volume, sia come potenza, sia come attacco. Questi cerchi qua gli permettono di avere un attacco veramente, veramente potentissimo. E una cosa che non vi ho detto, dato che ve lo state chiedendo se non avete visto dei video miei prima di questo, eccetera, eccetera. Io, oggi, insieme a questo rullante, sto usando una batteria che già vi ho portato sul canale. Vi lascio il link al video qui sotto in descrizione. che è una MAPEX Armory con una finitura che non ha senso. Io tutte le volte che parlo di questa batteria dico che la finitura non ha senso, ma è proprio così. E in più, come piatti, anche questi, vi li ho già portati sul canale. Link al video qui sotto in descrizione. I Classic Custom Dual di Mail. Piatti super. Ma non sono qui a parlarvi di questi piatti, perché ve ne ho già parlato. Link in descrizione al video. Vi dicevo che questo Black Panther qua, comunque, adesso voglio andare a provarlo un pochettino a varie accordature. Sicuramente il fatto di avere già un Ambassador X è un punto a suo favore per il fatto che trattiene alcune armoniche che questo rullante potrebbe avere. Infatti, io non ho messo alcuna sordina e comunque le armoniche ci sono, perché comunque stiamo parlando di alluminio e quindi ne ha un bel po' essendo metallo. Ma sono controllate. Poi, più che altro, questione... Fermiamo tutto perché qua... Questione Ghost. Veramente molto sensibile. Il fatto di avere due cordiere aiuta, in questo caso, super, super sensibile. Posso decidere io quanta sensibilità. Ecco, una cosa strana però delle Ghost è che non diventano mai troppo secche, ma rimangono sempre belle presenti. Sentite che non è ti 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 e basta, ma... Si sente sempre un po' di corpo del rullante, oltre alle Ghost. Quindi questo, ottimo, perché, appunto, se fossero troppo asciutte, nel momento in cui andiamo a suonare solo musica, si perderebbero. Così hanno un po' più corpo, rimangono un po' più visibili e sentibili, soprattutto. Allora, questa è una cordatura, diciamo, media. Adesso vado a tirare su. Proviamo a vedere cosa succede. Eccoci! Divertentissimo, ragazzi, divertentissimo. E' veramente potentissimo, ragazzi. Questo è uno dei rullanti più potenti che abbia mai provato, sicuro. E, più che altro, la cosa che mi convince di questo rullante è il fatto che anche qua le Ghost non spariscono. Sentite che hanno corpo e... Oh, è tirato di brutto, eh! Ma di solito i rullanti, senti, ti, 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 ti. Solo proprio quella Ghost super secca. Qua no! Senti sempre il corpo del rullo. Questa è una figata! Le armoniche ci sono, ma non danno fastidio. Ultima prova che voglio fare. Accordatura bassa. Molliamo di brutto. Molliamo di brutto perché so che questo rullante mi darà delle soddisfazioni. O almeno, spero. Ecco l'accordato basso! Molliamo di brutto. Allora, si comporta molto bene. Personalmente non è l'accordatura, secondo me, perfetta per questo rullante. Nel senso, lo potete usare così tranquillamente, ma quelle di prima spaccavano veramente di brutto. Perché qua si predilige la potenza, come vi ho detto. Quindi questo è un rullante potentissimo. Qua, quando andiamo a abbassarlo un po' di intonazione, secondo me andiamo un po' a togliergli della potenza. E quindi non riesce più a dare nello stesso modo. Accordato medio e accordato alto, invece, è un rullante mondiale. Veramente, non faccio fatica a dire che è uno dei rullanti più potenti, è uno dei rullanti più forti che abbiamo mai provato, che abbiamo mai portato qui sul canale. I Black Panther mi sono sempre piaciuti, ma questo ha qualcosa in più, secondo me, tra i Black Panther, che anche vi ho portato sul canale. Perché è veramente versatile, potente, bello, veramente bello. Quindi, io con questo voglio ringraziare tantissimo Adagio Italia e MAPEX per avermi mandato questo rullante pazzesco, per avermi mandato tutta questa roba pazzesca, tutta questa roba che sono riuscito a provare grazie a loro. E sono contentissimo, perché ho provato degli strumenti che non avevo mai provato. Una batteria, vabbè, e l'ho già detto più volte, non mi ripeterò. Quindi, grazie mille veramente Adagio Italia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, voi, cosa ne pensate di questo rullante qua? Quale accordatura vi è piaciuta di più tra le tre? Se avete un Black Panther, se avete... Ditemi che rullante avete, oppure no, non è vero, non ditemelo che rullante avete. Ditemi, secondo voi, qual è il rullante più potente che ci sia, quello più potente che avete mai provato. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, mi raccomando. Io con questo vi saluto qua, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di andare sui miei social, Instagram, Facebook, sempre le solite robe, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!